Ciao a tutti bellissimi e bentornati con questo nuovissimo video di Minecraft ASMR. Se parlo un po' strano è perché mi hanno tolto un dente e così per una cosa mia parlo tutto strano ma è per cercare di non toccare la gengiva col dente inferiore. Comunque adesso io vi ringrazio per i commenti precedenti che vi ho chiesto di scrivermi cosa, volevate vedere qualcosa che volete che costruissi. Allora ASMR poi e adesso aspettate un attimo che prendo il cellulare che ho qui i commenti. Allora ASMR poi di fare un magazzino mi ha chiesto e Alessia Teodorescu di costruire un edificio a forma di cesta appunto dove sfruttare tutto l'inventario. Io però se vi ricordate o in caso foste nuovi iscritti o vi siete persi l'altro video, non mi ricordo quale, comunque uno dei miei video precedenti appunto qui. Qui abbiamo questa fantastica piramide che ci è stata donata dal gioco dove appunto stavo iniziando qui a costruire pian piano il magazzino. Come potete vedere qui stiamo facendo delle chest perché era già costruito così potevo usufruire di questo... di questa... di questa struttura già creata mi sembrava buono così. Qui abbiamo i nostri pisciolini e pian piano stiamo creando... gli hanno cambiato il nome. Ma dai... le nostre... tutto quello che abbiamo insomma... chiaro bisogna portarlo avanti ovviamente perché non è fin da qua e dovremo anche farci i... Sarebbe bello su ogni colonna metterci un quadro con l'oggetto che rappresenta l'oggetto che abbiamo dentro a ogni scomparto. Quindi per prima cosa io propongo di andare a prendere del legno perché le riserve scarseggiano e abbiamo da costruire altra roba. Tra l'altro Spectre mi ha dato... Aspetta che non mi ricordo bene il nome... E abbiamo qua... Spectre Music di... 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 mi ha consigliato... di costruire una casa totalmente fatta di vetro e foglie. Io non so se sia cambiato... non so se tu lo sai in caso che appunto... teoricamente le... le foglie scompaiono se non c'è almeno del legno. Nel... nelle vicinanze della foglia insomma non si possono mettere soltanto foglie. Però io non sono informatissimo su questo quindi non so. Non vorrei fare la struttura che poi magari appunto scompaiono le foglie perché non c'è il legno. E quindi se qualcuno sa rispondermi a questa... a questo quesito... Per favore me lo scriva sempre nei commenti. E io inizierei... se ho qualche... Ok ho un cartello da parte. Inizierei a fissare nella nostra stanzetta degli iscritti. Quello... un obiettivo... Ciao. Ok mi piace. Ovvero... Fatemi beccare il commento. Ok. Nictex2 mi scrive... di fare la fattoria... e migliorarla con i materiali colorati. Io vorrei unirmi alla tua idea e creare questo. Guardate qua. Scriviamo comunque... Nick... text2 Io scriverei... Praticamente adesso che stiamo facendo tutto l'edificio per le pecore, vi è ogni piano un colore di pecore diverso. Io propongo adesso... lo sto costruendo in cobblestone. Però più avanti di migliorarlo quando avremo abbastanza lana. Di migliorarlo ogni piano. Per esempio con le pecore arancioni. Fare tutto il piano arancione e così via. Quindi come anche potrei scriverlo... eeeh... eeeh... ship farm... eeeh... con... con... lana... colorata. Poi si capisce dai. E così siamo a tre. Adesso... eeeh... vorrei inserirne un altro. Vabbè al momento non ho il cartello. Io andrei direttamente a prendere prima appunto il legno che sennò poi mi dimentico. E' una cosa che voglio farmi un po' di scorta. Perché ci sarebbe anche un'altra cosa molto interessante e inerente. Sandro Ozzoni... ASMR che mi scrive Puoi creare un luogo di culto o meditazione. Questa è una grandissima idea. Facciamo... Non ce ne... non prendiamo quelli di cuore. Questa è una grandissima idea perché appunto... è molto inerente col... con anche la tematica del canale. Insomma con... con la persona che sono io. Bah! Mettiamola così. Oh! Anche una vela guarda che fortuna è. Quindi però stavo pensando... una cosa del genere... voglio costruirla a mo' di... non dico proprio... tempio greco o Atene. Però... sicuramente sarebbe più... più figo... almeno per la maggior parte farla in quarzo. poi... se si hanno delle idee... mi raccomando... benvenga eh... assolutamente. Adesso prendiamo ancora qualche alberello... poi vorrei fare un saltino nel nether... perché a proposito di questa... di questa idea... vorrei già iniziare a procurarmi... a vedere per lo meno se ho... nelle vicinanze un po' di guazzo... perché se ce n'è... già lo raccolgo... e potrei già iniziare a costruire... a farmi un po' un'idea... anche perché il posto mi serve... mi piacerebbe avere un posto alto... eh... addirittura si potrà... ah no... però là c'ho... ma adesso vediamo... adesso vediamo... lagga un po'... non capisco... perché qua ci sono due bastoni... prendiamo l'ultimo albero dai... ecco... ecco... proprio adesso... avrai... perfetto... ah... adesso... adesso... adesso lasciano i rami... che figo... eh... delle carote... di qua... la rischiamo... ok... allora... per esempio il tempio... io già me lo vedrei... con due... eh... non gigantesche... comunque... due fontane... eh... all'entrata... sarebbe una figata... un luogo aperto... senza porte... eh... sono salito dalla parte giusta... è casa mia questa? sì... è la casa mia... e allora... si potrebbe fare addirittura qua il tempio... guarda che bel posto largo... potrei farlo qui... oppure... porco il lama... no... qui ci sarebbe la neve... beh... secondo me... qua sarebbe un'idea... buona... ah... però... però... si va un po' distanti da casa... qua sopra le mie... biblioteche... allora... fammi pensare... ah... ecco... ecco... qua è... è più... è più in linea con casa nostra... senza andare a espanderci adesso in posti strani... oh... bellissimo... qua sopra... non verrebbe molto grande... però bellissimo... là avremo il sorgere... là avremo il calare... eh... cioè... là avremo... il... il contrario... dai... ah... però sarebbe piccola la... la struttura... siccome che mi piacerebbe mantenerla naturale... allora... ok... lo faccio qua... ecco dai... fatemi sapere voi... a questo punto risparmio anche il tempo adesso di andare... nel nether a vedere per il quarzo... ditemi voi magari se la preferite in questo vasto spazio... qui è troppo piccolo perché vorrei mantenere la struttura originale senza toccarla... oppure appunto direttamente farlo qua in linea con la casa... volendo... qua sarebbe più in linea appunto con la costruzione... però qua ci sta di più fare fattoria eccetera eccetera eccetera... mentre qua proprio fare un'altra location proprio a parte con il tempio... non so... a me andrebbero bene tutti e due... fatemi sapere voi cosa... cosa magari preferireste vedere... ok... adesso... devo correre a dormire prima che... anzi saranno già spawnati mob... però dai qua è abbastanza illuminato... e dopo voglio... voglio continuare... dai adesso facciamo così... andiamo passo passo un po' a fare le cose... se no mi perdo anch'io... voglio... voglio perlomeno spingere in avanti la produzione del... cioè la costruzione scusate... della... farm di pecore... dai scendi... che problemi hai? niente da fare... dicevamo che di pietra... eh non ce n'è rimasta... forca vacca... ok allora... possiamo far così... andiamo a prenderla... bisognerà fare... una delle primissime cose... voglio... una... com'è che si chiama? la... la ferrovia che porta... al magazzino così... ci mettiamo veramente poco ad arrivarci perché... è comunque una gran perdita di tempo... questa... di andare e tornare... certo che il tempio effettivamente si potrebbe fare anche qua... o addirittura... qua... qua davanti... non lo so ragazzi... fatemi proprio sapere voi dai... confido... comunque... non troppo distante da... dalle strutture che già abbiamo... ecco... ecco la ferrovia deve arrivare qua... bellissima... questa è la stazione... la facciamo un po' meglio... anzi... questa è la stazione... verrà che bello... puoi scendere le scalette... che figo... ok... la pietra... perfetto... intanto... intanto l'edificio... perlomeno in cobblestone... così da popolarlo... di pecore... poi ci faccio le porte... così da separare una stanza dall'altra... e le pecore restano divise... le... eh... gli do il colore che voglio... e infine... eh... e nel frattempo che aspetto appunto... che mi producano abbastanza lana colorata... per colorare i piani... intanto mi porto avanti col... con la costruzione di... anche un ponte... ecco... un ponte... con la ferrovia... bellissimo... bellissimo... sono emozionantissimo... per festeggiare... mangiamo una carota... ordu... madonna... hanno cambiato un bel po' la grafica... di... di vari item... dunque... dovrei... salire... ah... e... anche la qualità dell'audio... non mi ricordo adesso... chi me l'ha scritto... ehm... la qualità dell'audio... è un po'... più bassa rispetto al solito... sì... perché... adesso vi spiego... mi si è... ehm... non lo so... se è rotto o cosa... il Blue Yeti... microfono... e sostanzialmente... lì ci devo attaccare le cuffie... se no... non sento niente... e... è un po' un casino da spiegare... però... quando attacco le cuffie... fischia... è un rumore proprio... insopportabile... per l'orecchio... all'orecchio... e... e quindi... sto usando... sostanzialmente... un paio di cuffie... che avevo comprato... un paio di cuffie... della Logitech... con... appunto... un microfono annesso... dovrebbero essere... delle buone cuffie... però... appunto... non possono... pareggiare i livelli... di un Blue Yeti... e... tra l'altro... non ho neanche soldi... adesso... da poter investire... in un nuovo microfono... dovrei... eh... ci sarebbe mio zio... che forse... può ripararmelo... ma... in questo momento... non ho l'opportunità... di... di chiederglielo... quindi... va così... su... per quanto registro... Minecraft... vi sto dicendo... ovviamente... devo usare... al momento... questa soluzione qua... ok... allora qua... ah... le scale... non ho fatto... ecco... potrei già farmi direttamente... una Warp... eh... così... facciamo... anche questo... ok... se ne abbiamo una... anche qua... e... ci... eh... facciamo... scale in legno... in co... legno... dai... non lo faccio tutto... prendiamone... metà... tac... e... via... perfetto... adesso... facciamo... così... bene... aspetta... però... è sbagliato... l'idea è sbagliata... ecco... ecco... i rumori pazzeschi... piccorella che voglio andare su... eh... il discorso... riguarda... la porta... che io dovrei fare... innanzitutto... qui... si apre la porta... giusto? penso che qui si dovrebbe aprire la porta... non è un problema... credo... fammi vedere come si apre... non so dove... fammi vedere come si apre... ok... così io... io ci passo... giusto? o dovrebbe funzionare... quindi farlo così... ok... ok... questa qua... intanto la rimuoviamo... perché appunto... adesso le pecore devono... eh... salire... come meglio... credo... e... un piano l'abbiamo fatto alto... a solo due... che... cioè... stupido... va bene... quindi... io direi... intanto direi... di far riprodurre qualcun altro... se si può... oh... ok... ah beh... adesso... adesso tutti vogliono... ok... tac... e... alta 2... giusto? così... ok... ma questo... eh sì... non è carbone... dopo... eh... vaff... sbagliato... sbagliato anche qua... perché voglio... farli un po'... a modo di spirale... quindi... lasciamolo qua in mezzo... dai... e... adesso... quindi... si salirebbe... qua... no... è qua... allora... deve essere aperto... si... io tiro... non per forza... con la testa ci passo... si... basta che arrivo qua... in realtà... questa... ah... e quindi... devo chiudere... perché sennò... le pecore... cadono di qua... madonna... che sfiga... eh... si... quindi... deve essere così... spostati... ok... deve essere così... per forza... e di qua... si sale... ok... non posso farle andare... sopra adesso... anzi... si... perché ho abbastanza... non ho abbastanza... copre... stanno finita... e non me ne so neanche accorto... ok... andiamo... a fare delle torce... prima che spawni gente... lì dentro... poi mi faccia del male... le mie graziose pecore... e poi mi faccia del male... le mie graziose pecore... iniziare tutta... non lo mettere... bà... qui... daule... e peratro ce... un ca mindaggio... ... Ok. Ma si è fatto male? Oddio, corriamo a dormire. Ok. Per questo episodio è praticamente tutto, adesso non voglio farvi la rottura di scatole, non voglio andare a scavare della pietra, quindi me la procurerò io off camera e così per il prossimo episodio già ce ne abbiamo per costruire. Nel mentre vi saluto, intanto procediamo su vari fronti, quindi per poter potenziare anche le altre armi dobbiamo portarci avanti con le canne da zucchero per ingrandire le biblioteche e quindi fare dei potenziamenti più grossi con il libro degli incantesimi. Appunto vi saluto, fatemi sapere delle due o tre idee che vi ho buttato appunto sul tempio, sulla posizione del tempio, sulla ferrovia, cosa ve ne pare intanto di fare quella, la farm a colori delle pecole, la mucca giampo, per quanto riguarda lei, lei è la mia mucca da latte, quindi resterà lì, magari appellirò un pochino la sua struttura, però lei è proprio la mucca da latte. Se mi servono dei vasetti di latte devo andare esclusivamente da lei a questo incarico d'onore. Ecco quindi, vi saluto, vi ringrazio sempre per il supporto, grazie sempre per i commenti, ma vi invito comunque a continuare a lasciarne altri. Ci vediamo al più presto con un nuovissimo video e alla prossima, buon riposo, buonanotte o buona giornata. Grazie.